Gentili telespettatori di Cilento Channel, stiamo passeggiando sulla sabbia qui a Marina Piccola perché dobbiamo annunciare un grande evento che si terrà proprio qui sul lungomare e si tratta della diciottesima edizione del torneo Beach Soccer T-Next Marina Piccola. Sono con Gerardo Scognamillo e con Giuseppe Villani, loro sono gli organizzatori di questo torneo che si terrà, partirà il 29 di maggio e terminerà quando Gerardo? Allora la finale dovrebbe essere da programma il 23 giugno, domenica 23 giugno, penso tra le 22 e le 22.30. E dunque andiamo subito a far capire ai nostri telespettatori come è strutturato il diciottesimo torneo Beach Soccer T-Next Marina Piccola, un mese di sport ad alto livello sulla spiaggia, raccontiamolo. Allora siamo giunti alla diciottesima edizione e quindi qualcosa significa che abbiamo fatto di buono negli anni precedenti. Quest'anno abbiamo messo anche delle squadre femminili di calcetto a fare il Beach Soccer ed esibissi sulla spiaggia, quindi questa è una novità assoluta di questa diciottesima edizione. Abbiamo detto che contiamo su 16 squadre del comune, di Castellabate, ci sono anche delle squadre esterne tipo Acciaroli, Montecorvino-Rovella se non sbaglio e qualche squadra di Agropoli. E quindi il totale siamo giunti a 16, facciamo 4 gironi da 4, poi alla fine si qualificheranno le prime due del girone e poi ci sarà una sorta di quarti di finale che porteranno le vincitrici dei vari scontri a semifinali e della finalissima che dovrebbe avvenire, come abbiamo detto prima, il 23 di giugno, domenica. Quando si tengono gli incontri? Dovremmo cominciare sabato 1 giugno alle ore 21, diciamo che si dovrebbe scontrare la prima partita, la squadra che è giustamente detentrice del torneo, la squadra di Acciaroli, contro l'altra sorteggiata nel girone A, perché noi così facciamo le prime quattro squadre, diciamo le teste di serie, che l'anno scorso sono arrivate fra le prime quattro, faranno questi gironi, poi successivamente faremo questi sorteggi che abbineranno le rimanenti squadre in questi quattro gironi. Quindi un grande appuntamento da non perdere qui a Santa Maria di Castellabate. 18 anni di torneo è un traguardo assolutamente incredibile, ormai siete diventati maggiorenni, questo grazie soprattutto al supporto di persone che credono in voi. Sì, sì, ma infatti io prima devo ringraziare Gerardo che questo è il terzo anno che sto dando una collaborazione a lui per questo Beach Social, appena mi ha chiamato subito mi sono messo a disposizione perché questo torneo deve crescere, deve crescere perché noi ogni anno ci mettiamo comunque dei soldi per far crescere questo torneo. Già l'anno scorso abbiamo preso le porte regolamentari da Beach Social, abbiamo investito con queste porte regolamentari le nuove linee e quest'anno prima anche dei fari a LED, dei fari a LED per illuminare il campo proprio da stadio e diciamo investimento, o è più investimento con voi, Gelendo Channel, che comunque gli altri anni se vediamo il torneo Beach Social è stato fatto, ma non c'era, vediamo che ogni anno sta crescendo sempre di più. Con Dinex che è lo sponsor ufficiale che dobbiamo ringraziare, con un bel supporto economico che ci dà, e anche la Crociera 3.0 che ha messo questo viaggio in Adriatico per due persone, questo viaggio diciamo è del capo cannoniere. Poi dobbiamo ringraziare tutti questi sponsor, questi sponsor abbiamo qua giù a lungomare anche come Sparviero, la yogurteria, abbiamo il cliff un po' più giù, il ristorante a Lecchino, ci sono anche degli sponsor fuori zona, fuori di San Amico di Castellabate, quindi ci danno una grossa mano. E' la prima cosa anche il comune, il comune che ci dà anche loro, diciamo con il padrocino che i premi diciamo sono offerti dal comune, e anche loro, il loro supporto c'è sempre come ogni anno, del comune di Castellabate, sindaco, assessore, tutta l'amministrazione. Bene, un grande evento che attende ancora le iscrizioni, per chi si fosse collegato adesso, per chi avesse visto da poco la locandina, bellissima devo dire, molto graficamente, molto ben costruita. L'iscrizione, il termine, Gerardo, qual è? Allora, come abbiamo messo sul manifesto, il termine dell'iscrizione sarà il 28 di maggio, che penso sia allo stesso giorno che si effettueranno i sorteggi, quasi sicuramente da Cataros, è un pub che sta qua a Santa Maria di Castellabate, dalle ore 21, però questa ancora non è definita la cosa, vediamo un po' se riusciamo a completare anticipatamente le iscrizioni. Per chi fosse interessato, dunque, il numero di telefono, eccolo qui, lo vedete in sovraimpressione, grazie ad Andre Giaccio che nello straordinario montaggio ha curato tutto questo. Io vi ringrazio da Santa Maria di Castellabate, con Gerardo Scognamillo e Giuseppe Villani, per questa diciottesima edizione del torneo di Beach Soccer T-Next, Marina Piccola, vi consiglio di vederlo, di seguirlo, perché è davvero straordinario.